Ragazzi, un attimo d'attenzione. Volevo presentarvi l'assistente tecnico Laura Bugelli, che da oggi lavorerà qui con noi nel nostro commissariato. Laura è cieca, è campionessa paralimpica di nuoto delle fiamme oro. Ma la chiamate per favore solamente di fronte a casi gravi. Quanto gravi devono essere questi casi? Gravissimi. Io non vedendo riesco a conoscere le persone senza il pregiudizio dell'apparenza. E mi piace aiutarle. Beh, insomma, che dicono i colleghi? La adorano! Gravissimi.